I militari della Guardia di Finanza di Fasano hanno individuato nel pieno centro della città un box utilizzato come deposito per pezzi di auto di provenienza furtiva. I finanzieri dopo un'accurata ispezione e perquisizione hanno rinvenuto più di 300 pezzi di ricambio appartenenti ad auto rubate come sportelli, cofani, blocchi motore, semiassi, quattro centraline neutre strumentali all'avviamento delle auto rubate, punzoni utilizzati per ribattere telai, numeri di motore e diversi strumenti da scasso. Inoltre nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria è stata rinvenuta una busta di cellophane trasparente contenente oltre 17 grammi di marijuana. Tutto il materiale rintracciato nel deposito è stato sottoposto a sequestro mentre il proprietario del box nel frattempo arrestosi irreperibile è stato denunciato a piede libero per i reati di ricettazione e detenzione di droga.